Le istituzioni, anche le università, fanno abbonamenti alla casa editrice perché chiaramente fanno un mega sconto e vedrai che lì sarà una cosa simile Quindi, quali sono i database? Andando nel concreto, questo Ale tra un po', cioè mia moglie ha H-Index 1 io non vedo l'ora che ce lo abbia anche tu con l'articolo su Brussap Questo è Scopus, non ci accedete voi, ci vuole un database universitario Dov'è la differenza con Medline? Se voi date temporomandibular disorders, vi trova comunque l'elenco dei documenti ma in più rispetto a Medline vi dice, questo è l'ordine di data vi dice quante volte sono stati citati da altri articoli quindi vi dà l'importanza di quell'articolo in seno alla comunità scientifica vi ridivide per anno di pubblicazione, per area e soggetto, per autore di riferimento quindi avete proprio dei ranking su qualunque cori Scopus, quindi è un database gestito dalla Elsevier quindi la casa editrice di riferimento in ambito di database medici è molto completo, crei indici per gli articoli, per gli indici di votazione degli autori e tutto quello che volete, il vero problema è che non avete voi accesso privato quindi in realtà prendetelo per buono, solo quello che vi dico che fondamentalmente tutte le gradatoie, l'abilitazione di cui si parlava ieri nasce da classifiche e punteggi di valutazione stilati su Scopus ecco questo è ad esempio, uno mi dice disordini temporomandibolari, l'articolo più citato della storia assume l'Eline, voi non potete sapere qual è ve li ordina se mettete in ordine di rilevanza ma ha una rilevanza decisa da chi? Boh l'articolo più citato della storia è la classificazione dei vecchi RDC che ha 2044 citazioni ovviamente il tempo aiuta, è un articolo in 92 quindi passano gli anni però voi considerate la proporzione su 16.000 citazioni bibliografici e 2.000 avevano questo articolo qua nella bibliografia se poi considerassimo addirittura la proporzione di quelle pubblicate dopo che questo articolo è uscito insomma è la classificazione di riferimento e la sua successiva evoluzione lo sarà altrettanto quella pubblicata nel 2014 poi vedete che ne so questo è l'articolo che è stato la base per creare il secondo asse di valutazione psichica degli RDC questo è l'articolo sulla sensibilizzazione centrale e questo è un altro articolo sugli aspetti genetici cioè come vedete il disordine temporo-mandibolari il mondo è lì ok? Scusa ma dietro a questa a scopo chi c'è? la è il Sevier la casa editrice ah si 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 i olandesi quando colonizzarono il mondo ragazzi non hanno mai smesso di montarsi la testa tanto per darvi un'idea della proporzione 16.000 voci su disordini temporo-mandibolari ce n'è 29.700 su endodonzia di cui non so se è conosciuto perché io sono ignorante ma l'articolo più citato della storia è Bone Morphogenetic Proteins di Chen, Zhao e Mundi del 2004 ti risulta? lo conoscevi? no questo non vale e poi via via gli altri e l'articolo l'autore più produttivo troppe siccheira tor bonjour ok questo è c'è qui non mente poi c'è una valutazione dell'autore sia in termini di documenti quindi di pubblicazioni prodotte per ogni anno sia di citazioni eccetera eccetera però questo è un aspetto simpatico guardate questo è Kevin O'Brien ha un indice H di produttività 27 che è molto alto chiaramente e ha tutta la serie di pubblicazioni quanto sono citate cioè come vedete qui c'è proprio la metrica delle pubblicazioni quindi quando poi escono le classifiche sono basate su questa roba poi c'è Web of Science che taglio corto perché è una versione ridotta e incompleta di Scopus è gestito dall'Istitut of Science non ricordo ricco da condire comunque fondamentalmente anche lì non ci potete accedere e quindi amen andiamo a Medline Medline lo conoscete tutti allora Medline è il database PubMed è il motore di ricerca con il quale ci si accede e ci si naviga più facilmente diciamo allora la letteratura su Medline è quasi sovrapponibile a quella di Scopus ci sono riviste magari indicizzate in una e non nell'altra e viceversa ma il grosso infatti il numero di citazioni è simile disordini temporomandibolari 16800 voi qui su google digitate PanMed entrate e vi si apre questa schermata qua dove voi potete digitare una parola chiave o anche l'autore ma è chiaro che l'autore dovete conoscerlo però è anche interessante non ha pubblicato tizio che tiene sempre corsi e racconta io nelle mie pubblicazioni coprite tante buffissime cose la famosa frase autore di numerose pubblicazioni internazionali io vi metto 10 euro sul tavolo e accetto scommesse che quando andate qui non ce ne è manco una perché se uno le ha mette il numero perché è troppo importante ok quindi voi entrate qui esempio disordini temporomandibolari queste sono ordinate in ordine dalla più recente va bene ma potete ordinarle in ordine lì dove c'è sort by di rilevanza fare insomma un sacco di funzioni scegliere range di data scegliere per voi gli articoli che sono disponibili in testo completo perché comunque ci sono delle riviste che mettono l'esposizione dell'articolo completo scegliere il tipo di articolo quindi dopo li vedremo cosa significa il tipo di articolo però grossolanamente non è super precisa questa poi rifinitura però mettere revisione della letteratura ad esempio vi aiuta perché così a spalle secondo me le 16.800 vi diventano 500 allora 500 comincia a scremarle perché comunque sicuramente la maglia è molto larga non tutte sono revisioni e dici caspita un'idea se voglio un argomento me la posso fare e poi tenete presente abbiamo dato la parola chiave più generica del mondo cioè se uno disse temporomandibular disorders and dental occlusion and magnetic resonance e tutto quello che volete già vi esce un sotto insieme spesso molto ridotto e il modo migliore per voi utenti diciamo esterni e poco esperti è subito cliccare su review e su al limite clinical trial perché vi riduce di molto il numero e comunque anche se poi dopo ripeto non è tuttora quel che luccica vi aiuta subito a farvi un'idea migliore addirittura se voi volete scrivere review sistematiche quindi systematic reviews andate proprio già al nocciolo sintetizzando molto esempio questa qua combinazione questo è uno screenshot che ho fatto qualche giorno fa una delle utile pubblicazioni del gruppo di Jean Paul Goulet è una revisione sistematica di tutto ciò che è stato scritto sull'artrocentesi dell'artm contro trattamenti non chirurgici quindi uno che fosse interessato all'artrocentesi dell'artm scrive temporo mandibular dysonis and arthrocentesis e dà la spunta su review ti appare subito questa ci clicchi avete il riassunto abstract vuol dire riassunto un'idea te la fai ok poi dopo non puoi accedere all'articolo completo diciamo lì dovete come vi dicevo prima da utenti esterni scrivere l'autore scrivete a me io lo faccio volentieri è un ruolo sociale che io sento ok non fate come a volte mi capita soprattutto studenti in giro per il mondo vai a tenere una conferenza mi ha scritto una studentessa rumena con 35 articoli se glieli mando ma non miei sono cioè la hollus nel senso vai no perché comunque sia capiscono che ti presti però il concetto è che tutti noi autori cioè il meccanismo adesso dopo ve lo dirò senza mezzi fronzoni è mantenuto dalla passione e dal volontariato cioè quindi non ci metri male è un onore rispondere se voi scrivete a Jean Paul Goulet o a Bouchard o a qualcuno del loro gruppo sono Gennaro Donaboli con questo top con questo top cioè mi ho letto il suo articolo e sono interessato a svilupparmi mi può per favore ma te lo mandano è matematico e cambia una pizza e cambia una pizza e una mozzarella e te lo mandano capito e si crea un meccanismo virtuoso capito che a me piace molto questo vale ai ragazzi qualcosa forse avete già sperimentato nel cercare articoli per la tesi o mi avete solo rotto le scatole a me non ricordo a parte in biblioteca vabbè ok quindi qualcuno ha domande su questo c'è Medline più o meno tanto nel ramo non ho parlato questo è quindi è un database molto completo offre il vantaggio di avere accesso libero per tutti almeno ai riassunti degli articoli qui ad esempio su discorso che mi facevi prima se hai due ore di tempo una mattina un'idea te la fai capito è chiaro che fa parte si parlava prima col collega ma per noi sembra sempre noi e voi io ho risposto testuale esattamente come abbiamo dovuto imparare a romperci i coglioni col commercialista digitalizzazione dello studio 200.000 documenti radioprotezione oggi almeno sapere che esiste questa roba e un pochino di tempo ogni tanto dedicarglielo secondo me è una tutela per la nostra professione è un valore aggiunto che non si trasforma in quanti pazienti quanto guadagno però comunque dà solidità alle vostre conoscenze un vantaggio che c'è su Medline ad esempio su Scopus non c'è ma è fatto apposta per gli utenti esterni è che voi cliccando ad esempio sulla pagina ora non ho pensato a fare lo screenshot se volete lo facciamo in diretta vi interessa sta roba o andiamo sì cliccando cliccando lì praticamente quando arrivate alla pagina dell'articolo vi mette gli articoli correlati e li seleziona già per voi quelli più rilevanti capito quindi è un grosso ecco questa è la mia fortuna io da adesso sono un computer riconosciuto come computer che ha accesso a qualunque cosa perché ho il proxy universitario quindi metto parmed vado chiaramente è la prima voce che appare mettiamo la parola chiave e vedete già rispetto all'altro giorno ne è uscita qualcuna di più supponiamo di mettere come vi ho detto prima e lavaggio così arriviamo subito al solo di quell'articolo lì ecco l'articolo di cui parlavamo prima io ci clicco ok questa è la pagina quindi l'abstrat voi lo leggete andate alle conclusioni diciamo che fondamentalmente sono molto generiche sai non ci sono tanti studi che hanno confrontato l'artrocentesi contro altre metodiche quindi è una review che lascia il tempo che trova secondo me però quello che vi voglio sottolineare è che se voi siete interessati a questo argomento io posso andare qui vado al full test e ho download pdf e mi si apre ok questa è diciamo il grosso vantaggio bene voi questa cosa non potete farla quindi se proprio siete interessati mi scrivete guardate per darvi un'idea queste sono 11 pagine tabelle vedete valutazione dei rischi dei singoli articoli insomma ci sono metodologie che dopo vedremo magari brevemente voi lì non potete andare c'è il senso alla pagina dove io lo download vi dirà compra ok voi vi fermate qui quindi qui la cosa più semplice è scrivete a Carbouchard che è l'autore di riferimento ok e vi manda l'articolo in automatico se vi interessa l'altro servizio interessante è che vedete quindi qui c'è tutta la lista degli articoli simili dove voi se mettete su vedi tutti ve li ordina in sequenza di affinità ok quindi ora non voglio stare a farla lunga l'argomento di nicchia però questo è il concetto insomma un'infarinatura secondo me è carino averla di questa cosa ok meta-analisi lo vedremo adesso c'è tutta una parte Alessandra quindi ti annunierai anche meta-analisi fondamentalmente significa è il gradino più evoluto della revisione sistematica cioè la revisione sistematica è la sintesi di tutto ciò che è stato scritto su un determinato argomento la meta-analisi è la combinazione proprio statistica dei risultati dei singoli studi cioè quando i risultati non sono gli studi scusami non sono troppo eterogenei esempio ora io lì non l'ho letto vi confesso ancora quello lì sul sul lavaggio però supponiamo che esistano cinque studi nella storia della letteratura che abbiano confrontato il lavaggio a singolo ago mono seduta contro il lavaggio a singolo ago cinque sedute oppure contro i bite portati per tre mesi tutte le notti perché gli studi devono essere più simili possibili i risultati dei cinque studi possono essere leggermente differenti tra loro e la review sistematica si ferma lì nel senso che li analizza li commenta valuti la qualità dei singoli studi quando è possibile invece fare una meta-analisi perché gli studi sono molto simili si combinano tra loro i dati dei singoli studi cioè lo studio A ha 20 pazienti e trova questo il B ha 31 pazienti il C arrivi ad avere un campione generale e fai la statistica su quello quindi sono dati teoricamente che poi ha dei limiti dal punto di vista statistico più potenti questo vuol dire meta-analisi tant'è che si considera è al vertice della piramide dell'evidenza scientifica la realtà clinica è che poi in questo momento secondo me ho anche una diapositiva su questo forse non siete proprio così in grado di comprenderlo è che c'è un po' la malattia della meta-analisi cioè non tutte le cose si possono meta-analizzare perché spesso gli studi sono differenti tra loro penso al mio ambito bruxismo spesso è valutato con un self-report come fai a meta-analizzare dei dati su una base capito che già non è valida all'inizio ok però il concetto è questo ad esempio sull'efficacia dei farmaci la meta-analisi se il campione di popolazione è sovrapponibile è fondamentale quindi vi dicevo la funzione per voi degli articoli correlati è molto utile perché nel momento in cui voi ne intercettate uno che vi interessa ci cliccate e avete per ordine di rilevanza e di affinità tutti quelli più simili è chiaro che su Medelline lo avete visto per com'è strutturata voi non potete capire qual è l'articolo più importante o l'autore di riferimento anche se poi ovviamente ha una certa ricorrenza nei nomi soprattutto negli argomenti specifici come vi dicevo prima come vi dicevo prima FanMed e Scopus hanno utilità differenti ma sono abbastanza sovrapponibili Web of Science non mi interessa perché è abbastanza fiato in questo momento se uno volesse proprio disperatamente cercare più roba gratuita possibile da Google Scholar ma vi escono 73.000 risultati se voi mettete perché vi trova la bibliografia quindi diventa un pasticcio va bene? quindi ecco questo va bene due ceni di storia Medelline quindi è un database 21.000 citazioni gestito dalla National Library of Medicine la serie negli Stati Uniti e quindi FanMed è il motore di ricerca e basta ecco questa è la storia iniziò tutto negli anni 70 e per dirvi com'è cambiato il mondo cioè questi ragazzi qua che solo per pochi anni non potrebbero essere i miei figli per fortuna quando mi sono laureato io non cent'anni fa tu dovevi per fare le ricerche chi ha qualche anno di più non se ne parla già ai miei tempi tu dovevi prendere l'appuntamento nella biblioteca universitaria la segretaria che quindi ti aiutava a mettere le parole chiave metteva il cd di Medelline con l'aggiornamento annuo e ti dava una strisciata di articoli interessanti di articoli che matchavano con la parola chiave che tu avevi messo poi tu te li leggevi nell'elenco tornavi da lei dopo qualche giorno e gli chiedevi la lista e loro con l'interscambio universitario via posta io di quei faldoni così eri là te li te li facevano avere capito quindi erano proprio sembra tempi del farware sì è incredibile come si è cambiato il mondo adesso tu vai lì e tac col proxy cioè qualunque gli studenti addirittura col vostro proxy da studenti hanno accesso a quasi tutto quello a cui ho accesso io ok questo è un concetto per i risercatori tanto per curiosità anche qui se voi mettete impianti dentali su Medline andiamo a 31.000 quindi numero di pubblicazioni doppie quindi è chiaro dipende dalla vastità della materia ora come si fa a cercare l'evidenza scientifica in tutto sto calderone di roba perché giustamente dici io sono un professionista dici ma cosa sai del bruxismo nei bambini tu scrivi prevalenza bruxismo nei bambini la vuoi sapere dai su Medline bruxismo ai bambini ti escono fuori 412 articoli dici che palle no devo leggermeli tutti devo leggere i riassunti e almeno i riassunti devi leggerli o i titoli e allora cosa fai siccome voglio produrre una revisione sistematica di tutto ciò che è stato scritto escludo via via step dopo step 342 li tolgo perché già dal titolo capisco che non hanno indagato la prevalenza dei bambini me ne rimangono 70 leggo i riassunti ne escludo altre 24 dei 46 li leggo per intero ne escludo 25 includo nella review 20 articoli di cui però poi aggiungendo google score anti database eccetera ne aggiungiamo due dei 22 che rimaniamo solo 8 erano qualitativamente adeguati cioè non avevano delle pecche di validità interna non ve la sto a fare lunga ci sono degli strumenti di valutazione per cui alla fine valeva la pena saltarlo dici qui sarà anche una passione sarà il mio secondo lavoro eccetera ma qui è solo iniziata Alessandro lo sa qui la storiella è solo iniziata perché poi il risultato finale è questo una bella pubblicazione sul journal War and Rehabilitation dove che è citatissima perché è lo stato dell'arte e la prevalenza dell'occasione dei bambini ma la domanda per voi che è doveroso che voi sappiate e cominciate a diffondere che informazioni su cosa c'è dietro la domanda è da quella ricerchina lì che ho fatto probabilmente una mattina in fretta e furia ad arrivare lì cosa c'è nel mezzo qualcuno di voi ha anche una vaga idea perché se avesse anche solo una vaga idea non esisterebbe nessuna filosofia o perlomeno si comincerebbe a portare più rispetto sapete cosa c'è nel mezzo? quanti passaggi? avete una vaga idea o no? allora tu hai l'idea se mangiare il pavimento fai in questo caso la ricerca della letteratura ma può essere testiamo l'applicazione BruxApp su 30 studenti nel caso nostro fai la ricerca bibliografica che abbiamo visto nel caso diamo l'applicazione e recuperiamo i dati valutiamo le pubblicazioni come avete visto in tutta la sequenza valutiamo i dati e facciamo analisi statistica sull'applicazione del bruxismo scrivo l'articolo che non deve essere vedremo dopo vi darò un'infarinatura di quella non deve essere secondo me no deve essere attinente alla ai dati della letteratura in questo caso o delle percentuali di bambini di ragazzi che hanno risposto sì o no l'applicazione su bruxismo dopo di che arriva il momento dell'ansia l'ha formato ed è una rottura di anche quello secondo le linee guida editoriali del giornale lavoro e lo invio online adesso ed è un grosso vantaggio una volta dovevi andare alle poste ma dieci anni fa non cinquecenti andavi alle poste arrivava negli Stati Uniti per l'anghi ok fax qui non è che è finita cosa succede qui qualcuno lo sa controlla controlla no comitato etico comitato di lettura cioè tutte queste riviste essere su med the line non è sinonimo di qualità perché ci sono anche non ve ne faccio ma ci sono l'indice di importanza delle riviste tutte queste riviste hanno un comitato di lettura per cui c'è il direttore che si avvale di esperti esterni che in forma anonima giudicano la qualità degli articoli quindi Alessandro ha testato con mano quanto ci si può scottare pur avendo un progetto eccezionale alle spalle l'articolo passa dal giudizio di questi che sono sempre tre o minimo due se uno non può rispondere ma tre reviewers per alcune riviste addirittura quattro i reviewers ti possono anche dire quella che secondo te era un'idea fantastica è una cagata pazzesca per questo 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 motivo Elvis non facciamola lunga su Slavice su Roth Domingo Martino non trovi un cazzo a letteratura per questo perché se scusa ma se io avessi un'azienda multimilionaria che tiene corsi sulla mia filosofia e avessi 200.000 allievi sparsi in giro per il mondo come io ho tre ragazzi qui e altri tanti a padrono ma non sarebbe facilissimo no? se non ci sono riusciti e gli studi sono ancora in progress dopo 40 anni è perché c'è un cestino cioè questa è la nostra salvezza e adesso vi arriverò a dire il come funziona questo meccanismo perché è implicito me tocca fare da reviewer per tutte le riviste che potete immaginare perché è un meccanismo che si legge sul volontariato non sei pagato per farlo e allora se il direttore del giornale dell'orabilitation Peter Svensson ha un articolo sul bruxismo e mi dice Daniele me lo puoi giudicare e io dico oggi no perché ho compreso di mia figlia domani no perché alla fine cosa succede? che lo legge qualcun altro meno qualificato di me e il livello della qualità scientifica si è bassa quindi tutti ci diamo un limite si parlava con Frank l'altro giorno ormai siamo arrivati a quasi 100 inviti l'anno dalle varie riviste capite bene è un lavoro un terzo di cdc due o tre al mese gli altri riviste sconosciute articoli che vedi già dall'abitard che sono idiozie quindi li boccerebbe chiunque li rifiutiamo ma ci sono due o tre riviste che sono le top che per mantenere un certo livello hanno bisogno capito che questo sistema che chiaramente quanto pensate che guadagnassi io a fare il reviewer o l'autore lo siete mai chiesto lo siete mai chiesto ok è questo il meccanismo cioè guadagnate di più a rispondere a quelle indagini online su quali 40 dollari per se mi rispondi a 5 domande sull'impianto ok quindi i reviewer ti danno una risposta quindi cestina ma comunque per questo questo motivo cioè non è solo cestina per cui uno sveglio che vuole crescere e per lì ti incazzi perché ti incazzi ancora ora poi modifichi e invii a un'altra rivista non puoi più sfruttare la stessa all'infinito ok invii a un'altra rivista ripassi dallo stesso filtro comunque l'altra o prima o dopo o magari anche mai strada è che i reviewer ti chiedono di l'articolo ha delle qualità potrebbe essere accettabile se tu fai questa questa quest'altra modifica e alla fine arrivi al risultato finale cioè questi sono tutti i passaggi che ci sono nel mezzo e io divento una iena se uno mi dice che per fare la roba di Alessandro sul Brooks App ah ma te ricercatore no perché io sto in studio dalle 9 di mattina alle 8 di sera come voi e più mi sveglio alle 5 del mattino per fare sta roba quindi comunque sia queste cose vanno dette e ci vuole il rispetto anche per capire cosa c'è dietro le quinte va bene quindi arriva lì adesso questo è come funziona una review da dietro le quinte ci sono questi autori che inviano una revisione sistematica e meta-analisi sulle infiltrazioni di acero loronico e cortisone per il disorio in tempo mandiborario al giorno a loro fascia il pain Sandro Palla che è uno degli editor mi scrive Daniele benissimo e questa è una delle riviste per cui io accetto sempre perché è la nostra top e va mantenuta devi farlo entro 14 21 giorni poi spesso si sfora dicendo che compriano mia figlia mille impegno lo sappiamo tra noi però l'idea è che hai anche una timeline il punteggio della rivista dipende anche molto dalla rapidità di risposta a un autore che viene allora li metto lì lo leggi sono sempre 20-30 a volte anche 40 pagine in formato Word li metti lì e scrivi una tua bella lettera nel caso specifico gli autori la leggo perché questo è quello che poi ti ritrovi di fronte a volte qua anche quando sei autore hanno tentato di revisionare la letteratura esistente sull'efficacia aeronica hanno navigato nei principali database medici ritrovato sette lavori ed eseguito una meta-analisi con risultati tratti da solo quattro dei sette lavori risultati suggeriscono che l'evidenza in favore o contro l'uso di tali approcci è limitato a causa della scarsa letteratura e dei potenziali rischi di bias negli articoli individuali ora premessa da conoscitore della materia già qui io mi incavolerei perché se tu conoscessi la materia questa roba la sapevi già prima ancora di fare la review quindi questo è un capitolo a monte su grossi problemi adesso di letteratura in mano a questi centri di evidenza scientifica dove uno fa una review sulla cardiologia l'anno dopo il giorno dopo sull'endodonzia poi sui TMD poi su bruxismo poi sulle carie ok perché sembra che con la metodologia si possa risolvere tutto se tu conosci una materia sai già che non c'è letteratura che confronti il alluronico il cortisonico qualcosa però uno come palla si sarebbe fermato lì a dire agli autori basta sapevate già i cazzi vostri io cerco di essere un po' più costruttivo e gli dico le intenzioni degli autori comunque sono lodevoli in linea con la corrente necessità di revisionare la letteratura sull'argomento per una parte per fornire da un lato un quadro stato dell'arte su un determinato argomento e dall'altro lato anche di preparare una potenziale citation hit cioè uno che ha una review pubblicata su sta rivista va a bomba nel punteggio di noi autori cioè anche questo va tenuto in considerazione purtroppo devo ammettere che gli autori hanno fallito nel raggiungere questo obiettivo e ho parecchi dubbi sulla qualità del loro lavoro mi sono voluti solamente pochi minuti ma perché conosco la letteratura molta è nostra a trovare almeno altri otto lavori che avrebbero voluto essere inclusi o perlomeno discussi sulla base di quanto gli autori avessero considerato stringenti i criteri di inclusione nella review e glieli elenco di questi è difficile comprendere le ragioni dell'esclusione dell'esclusione del trial clinico è mio che vuoi quanto mi sono investialito su sei differenti protocolli di ricerca infiltrativi quello con guarda Nardini come primo autore comparante l'invitazione neuronico contro i bite e quello di James Alderson sull'efficacia dell'esame tagli inoltre gli autori hanno persino fallito nel citare le più recenti review ce n'è almeno due o tre di cui una cocrane una nostra di sei sette anni fa sull'argomento quindi questa è gente che non sapeva niente di infiltrazione ATM ha detto do una tesi faccio una ricerca su questo e mi gaso provo a inviarla al don l'onore del lavoro facendo Nell'ambito di queste premesse tutti gli altri comunque importanti preoccupazioni non sono neanche importanti ma mi piacerebbe comunque sottolinearne alcune per cercare di dare agli autori input costruttivi in particolare temo di notare che ci sia una sorta di malattia della metanalisi nel mondo degli autori medici talvolta i dati di una review semplicemente non possono essere metanalizzati e i revisori dovrebbero avere gli autori della review dovrebbero avere abbastanza conoscenza clinica per capire per esempio in questa review come possono essere gli studi di Coff Sigvard Coff chi lo conosce Karolinska Institute che ha dei pazienti selezionati con dolore ATM non rispondente la terapia conservativa protocollo di due infiltrazioni di 0,5 ml di acido neuronico ogni 14 giorni quello di Bjorkland che seleziona i pazienti sul base di apertura limitata e sulla base di criteri radiologici trattamento 1 ml sempre 14 giorni ma 1 ml e quello di Gencher pazienti con artrosi trattamento protocollo una singola iniezione come possono essere metanalizzati i dati di questi lavori cioè sarebbe come dire qual è il peso medio delle pesche le abicocche e le mele e ti faccio un grafico ma che me frega sono troppo differenti inoltre c'è una scorretta cornice nel presentare la potenziale utilità clinica di questi trattamenti perché loro dicono di usarli come ultima spiaggia ed è una grossa cazzata sono un armamentario per l'artrosi ma semmai non servono a niente come ultima spiaggia perché il paziente con dolore refrattario ha problemi centrali neurologici eccetera quindi manca la metodologia e manca la clinica questa limitazione è correlata a una incompleta o incorretto riporto della letteratura che mi fa pensare che gli autori dovrebbero prima migliorare il proprio know-how clinico sui T&D spero che gli autori non siano scoraggiati da questo giudizio negativo e prendano come un'opportunità costruttiva per fare la qualità del loro lavoro ma non è che li ho presi cioè è così che funziona capito quindi se il pinko pallo di turno con le sue filosofie si approccia cioè è un altro sport cioè questo io voglio che voi capiate l'esempio che io ho detto agli amici dell'accademia di antologia quando mi fece le domande sull'occlusione alla sido io ho detto scusa ma qui stiamo a giocare a calcio e tu stai entrando ho detto così davanti a 500 persone tu stai entrando col pallone da basket dicendo che vuoi dettare le regole si gioca con i piedi ti piace questa? si i migliori studi sono quelli con i scienzi non c'entra niente Giorgio è un discorso di metodologia puoi avere anche uno studio dopo te lo farò vedere su tre pazienti ma che è talmente interessante che viene pubblicato cioè il concetto in questo caso specifico che era molto semplice esemplificarvi è che se tu sintetizzi o pretendi di sintetizzare tutta la letteratura su un argomento devi presentarla davvero tutta e conoscere anche i retroscena clinici poi dopo finito questo devi compilare tutto un format di 20 domande se il titolo è adeguato riassunto e poi scrivere all'edito caro Sandro grazie come sai credo che anche insomma ero in dubbio se revisionarlo o no perché sai conflitti di interesse ho visto che comunque non avevano citato un paio dei nostri lavori ti va subito la mosca al naso ma dici lo boccio al di là dei demeriti nonostante ciò penso che ci siano troppe mancanze eccetera eccetera la prossima raccomando la bocciatura cioè non possono correggerlo e rimandarlo il massimo che possono fare è se sono svegli ma molti non lo sono perché mi è capitato a volte di trovare per un'altra rivista lo stesso identico articolo non modificato lì ti incazzi con l'aniena è come uno che ha l'esame lo bocci e torna dopo tre mesi e sa meno della volta prima no allora non è una cosa capito finalizzata al crescere però succede scusa Daniele ma ai revisori è dato sapere chi sono gli autori dell'articolo no nel senso che molte riviste no ti mandano proprio solo il testo addirittura chiedono a noi autori quando invii l'articolo di cancellare tutti i riferimenti a Università di Padova capito possibili anche nel corpo del testo riferimenti ti confesso che a volte invece è dato saperlo insomma e c'è anche da dire che a meno che non siano proprio autori sconosciuti e nelle review ogni tanto capita perché c'è gente che si cimenta poi leggendo la bibliografia capisci chi è l'autore che uno tende a citare un po' più i soldi comunque tendenzialmente dovrebbe essere anonimo ma non sempre qui l'alternativa poteva essere accettarlo accettarlo con poche modifiche accettarlo o per o meno prendere in considerazione l'accettazione un po' tante modifiche oppure bocciarlo quindi loro se sono svegli qui siamo rispetto alla diapositiva prima zona cestino se sono loro devono capito tenere conto di queste modifiche e come abbiamo fatto noi e come si fa comunemente cercare di capire dove hanno sbagliato perché comunque è dura essere editore è dura essere reviewer ogni tanto ti arrivano giudizi che sono anche magari consideri esagerati sbagliati però il meccanismo si regge su questo principio rating 4 rating 4 perché in questo caso la rivista ti dice da 1 a 5 dove 1 è eccezionale e 5 è scarsissimo che voto dai l'articolo 4 su 5 sì ma nel senso 5 è basso sì altri ti dicono da 0 a 10 da 0 a 100 insomma cambia da sì ma tu hai un format da compilare capito quindi ma di tutto questo agli autori arriva questo cioè palla dice caro pinco pallo abbiamo mandato grazie per aver inviato l'articolo al giorno abbiamo mandato il vostro lavoro in giudizio a 3 revisori esterni ed è con grande dispiacere che il vostro articolo è stato giudicato non idoneo alla pubblicazione in allegato i giudizi dei reviewer il mio e quello degli altri due più a volte quando ci sono magari situazioni dubbie il suo commento privato ovviamente i reviewer sono anonimi i reviewer sono anonimi i reviewer sono palesimi cioè neanche io so chi sono gli altri due reviewer basta che bocci solo uno o se qualcuno dipende dalle motivazioni ad esempio a me a volte è capitato soprattutto sul journal of dental research che ha delle politiche editoriali un po' strane di bocciare un articolo ricordo un paio di mesi fa perché secondo me era insensato sui modelli animali del dolore eccetera e poi è stato accettato però questo rientra nella discrezione questo un altro non arriva neanche a dargli ripassare al via e quindi non capita ma dunque la scelta se mandarlo ad una rivista piuttosto ad un'altra dipende anche dalla linea editoriale che già conosci in parte eh sì tu sai quali sono le riviste dove voglio arrivare meglio le due riviste di riferimento in ambito nostro Journal of World Fascial Pain e Journal of World Rehabilitation sapete la percentuale di cestini sparo sparo ok e quindi ti chiedono proprio di essere severo se mi capita un invito di revisionare per una rivista di livello sai di questa adesso ad accesso libero o addirittura a pagamento è chiaro che il livello è inferiore perché chi è quell'editor che è di fronte al pagamento di duemila dollari ti boccia un articolo capito c'è anche questo grosso problema ragazzi che voi non potete sapere però tendenzialmente un altro piccolo aiuto per mettervi in guardia su Medline voi alcune riviste ci potete accedere sono quelle scarse è triste dirlo ma è inevitabile che sia così perché ci sono tante riviste adesso che si autoalimentano facendo pagare la pubblicazione agli autori uno che ha un materiale degno non ci pensa neanche lontanamente a pagare due o tre mille euro per pubblicare una roba cioè semmai dovresti pagarmi capito quindi siccome l'accesso a tutti è consentibile grazie al fatto che ci sono i fondi degli autori che consentono di mettere in rete di database le riviste dove voi cliccate e vi oh che bello questo è sono le più scasse l'unica eccezione per voi è la Angle Ortodontist è accessibile free ma lì c'è la fondazione Angle che l'Angle Society che paga tutte le altre riviste che vi appaiono ad accesso libero quindi c'è uno scadimento della qualità quindi io l'unica cosa che vi posso dire l'unica cosa che vi posso dire è quello ad esempio io come reviewer quando mi arriva la richiesta editoriale da una di queste riviste qua rifiuto perché tanto è tempo perso non so se sia giusto o sbagliato però è tempo perso invece altre ma queste si reggono perché una è rivista quintessenza quindi leader mondiale dell'editoria odontoiatrica e l'altra è la rivista di riferimento della della Wiley quindi volenti o non volenti devono raggere il gioco ok quindi uno che ha un materiale deboluccio ma ha anche i nostri gruppi di ricerca cioè non ci mando una roba che so che ha qualche piccola pecca a farmi brutte figure con gli amici Sandro Palla in company del giornale non fascia il bank capito mi viene bocciato qualcosa perché il vero la vera simpatia del dietro le quinte è che io sono sicuro di aver bocciato degli articoli del gruppo di Frank e altrettanto ha fatto lui con me cioè o di Daniel paesani però ecco questo fa parte del gioco della serietà fa parte della serietà così come a volte ti darebbe voglia di bocciare perché ti sta antipatico il talautore ragazzi quello siamo umani il concetto è che c'è dietro questo meccanismo ok ma come si va a acquistare queste riviste sono tutte comprabili per abbonamento individuale sul loro sito sul loro sito capito 150 euro l'anno tu hai l'abbonamento e l'accesso che tra l'altro è retrodattato quindi uno potrebbe anche dire per un anno lo faccio scarico tutto e poi l'anno dopo ne fai un'altra però secondo me vi potrebbe quasi convenire di andare sul sito della Fnomeceo e vedete cosa recuperate e quello che vi manca o fate una mattina tu ricordo vai in biblioteca Pisa capito se no diciamo tra tutte il giorno che non vorrò fare champagne io parlo per la mia materia lo sconsiglio perché è bellissimo ma è bellissimo per me nel senso c'è quattro numeri l'anno molta ricerca capito secondo me cambia poco il giornal voler rehabilitation che intanto ha 12 numeri l'anno con 10 articoli ciascuno e poi è proprio anche protesi conservativa capito è se dovessi dire dimmene una io farei l'abbonamento e l'editor ripete ed è ad esempio una rivista che da quando l'ha presa lui ha svoltato fino ad arrivare a essere troppo severa tant'è che Alessandro lo sa avevano problemi poi di avere troppi pochi articoli rispetto alla mole di spazio editoriale che aveva Journal of Oral Rehabilitation questo qui va meno è questo qua quindi Alessandro ha già fatto la domanda sulla meta-analisi cos'è ora le vedremo a uno a uno con degli esempi nell'arco della restante parte di giornata in fondo trovate le comunicazioni personali che comunque anche su Medelline esistono certi spazi tipo lettere all'editore esistono ok li vedremo a uno a uno iniziamo da un concetto di base tutta l'odontoiatria basata su concetti in my hands nella mia esperienza secondo me è un case report continuo che assume dignità se stiamo parlando di case report pubblicati se stiamo parlando di post su facebook è pubblicità è un'altra cosa vi faccio alcuni esempi questo è un case report che pubblicammo anni fa sapete che è dovuto mancare Pino Ferronatto lo sapevi tragedia una ventina di giorni fa un infarto vennerà in Costa Rica con gli amici andavano a casa in Costa Rica si si andavano a fare il trecchio ogni anno una settimana senza mogli sai e anni fa Luca Guarda e Pino Ferronatto misero la prima protesi di articolazione temporomandibolare in Italia ne derivò una pubblicazione sul giornale Spenum Psylofacial Surgery per i non addetti ai lavori o chi non mi ha mai sentito descrivere Luca Guarda al congresso ne parlerà cioè non di protesi a TM ma sai sono sempre casi interessanti fondamentalmente anchilosi resezione posizionamento della protesi polietilene pressato di fossa glenoide posizionamento della protesi in titanio ricondino mandibolare insomma era un intervento innovativo quindi pur essendo un case report riusciamo a pubblicarlo su una rivista abbastanza quotata la versione avanzata dei case report è il case series cioè non un paziente ma X pazienti a cui è fatto un intervento e vengono seguiti nel tempo l'esempio pesco dai nostri perché è più facile è questo del 2007 su una serie di pazienti ai quali è stata effettuata infiltrazioni di acido erononico per artrosi da TM seguiti per adesso non ricordo un anno in questo caso perché poi c'eravamo anche a Simmons ok quindi hai tutte le tue tabelle i pazienti migliorano nel tempo quindi viva le infiltrazioni in teoria analizziamoli un attimo attentamente il primo articolo porta dell'evidenza clinica nel senso che comunque c'è un problema anch'ilosi risolto mediante la vestizione di un caso clinico con una procedura chirurgica innovativa per l'epoca e devo anche dire quasi mai più ripetuta data l'invasività eccetera quindi era comunque una cosa interessante per voi quale vale di più questo o il secondo dove i pazienti erano 27 seguiti per un anno chi ha detto il secondo chi vuole dire il primo io adesso dieci anni dopo da reviewer vabbè la protesi ATM ormai non vale più come singolo caso clinico ma il secondo non sarebbe più accettato da nessuna parte perché siamo andati avanti con le conoscenze però all'epoca i risultati erano tra l'altro su AAA una rivista importantissima ma era un'evidenza clinica pura nel senso che sì pazienti quindi non uno solo dati incoraggianti ma mancava il controllo cioè il what if cosa sarebbe successo se se non avessi fatto le infiltrazioni cioè se avessi fatto un altro trattamento quindi i pazienti miglioravano ma fattore tempo sarebbero migliorati di più di meno mettendo un bait o facendo meno infiltrazioni ok quindi è una bellissima pubblicazione nella carriera ma scientificamente vale se non sarebbe troppo facile dire solo no tutto bello ok o vale come il primo o vale vale per quello che è vale se è presentata come effettivamente l'avevamo presentata no cioè dati da rifinire comunque fu il primo studio della letteratura con pazienti seguiti a un anno c'era un decremento almeno fino a sei mesi eccetera eccetera capito tieni presente che poi ora c'è molta più severità da parte delle riviste ad esempio l'articolo che mi hai mandato tu cioè che mi hai chiesto di commentare che dopo ti farò vedere a parte era Cranio in anni in cui Cranio era la rivista della Myotronics quindi non fa testo però adesso non sarebbe mai pubblicabile su riviste di buon livello ok altro esempio appena accettato sul journal of a refreshment cioè una di quelle due riviste del cestino signora che arriva in università con la intercetta Luca con una storia clinica di dolori appena insorti alla zona da PM destra insorti da 2-3 mesi era già stata bite dolori non passano peggiorano sempre di più da buon chirurgo axilofacciale Luca prima ancora di farla sedere risonanza magnetica ve la faccio breve questa era la signora del bravo ti ricordi bene del tumore aveva una metastasi di tumore no di tumore polmonare a livello dei condili ma di tumore polmonare silente quindi questa non sapeva di avere di avere niente e aveva dolore qui e da dolore qui si è ritrovata a averci lasciati un anno dopo ok quindi questa è la mia chiave questo era ok dopo chiaramente la biopsia ti dice Carcino lei o mio sarcoma anche lei lei non l'abbiamo pubblicato perché i dati non erano abbastanza ben documentati però ecco però la ecco quello che io voglio dire è che esiste sta roba allora quale dei tre anche se un caso clinico vale di più quale dei tre il terzo cioè il terzo allerta tutta la comunità medica sul fatto che esistono certe cose e se poi proprio vogliamo dirla tutta allerta o dovrebbe allertare perché non leggono certo il giornal non fa champagne i vari fisioterapisti gli osteopati non li cerco neanche i vari fisioterapisti dove sei tu che hai osato fare il corso di una fisioterapista cioè non mi ascolta fa finta di niente allerta i vari fisioterapisti sul fatto che esiste anche questa roba e che quindi la persona che ti arriva non è il bite di Marco fatto a cavolo per cui tu con un po' di ginnastica la risolvi o con un bite migliore una su x becca la pagliuzzina più corta e allora la pagliuzzina più corta se la becchiamo noi che comunque per legge siamo abilitati a fare determinate cose è sfiga se la pagliuzzina più corta la becca un cialtrone che si autoreferenzia immedesimandosi a fare cose che per legge non potrebbe fare non so concludete voi non c'è nessuna conseguenza penale reale in Italia però questo è un messaggio secondo me etico importantissimo per cui il fisioterapista in prima battuta vedere l'ATM non c'entra niente basterebbe solo per questo motivo scusami ma perché non sapeva di averlo Luca ha visto questa roba questa pappa qua no no qualunque cosa fosse la togli e la biopsia ha evidenziato tessuto cellule di carcinoma spamoso polmonare polmonare cazzo vai pattacca delle dimensioni che mette un po' in contraddizione un discorso stamattina facciamo troppi esami un discorso come della medicina di pensiero a un certo punto sì però anche lì anche lì Giorgio però anche lì ci vuole allora se fai risonanza a tutti il concetto è che se fai risonanza a tutti non è che sbagli è a volte inutile nel senso che questa era una paziente di circa 60 anni con dolori forti non solo persistenti Elvis ma che peggioravano nonostante un bite decoroso fatto da un professionista della zona che gli aveva dato ginnastica e antinfiamatoide e cacchio ti arriva in ospedale cioè chiunque avrebbe come minimo chiesto una risonanza quando si come si diceva prima non è bianco o nero la risonanza non serve né la ragazzina di 20 anni che gli arriva apri chiudi clic ok si prescrivila ma poi capito quindi c'è sempre una mediazione clinica quindi anche questa è evidenza clinica è un caso singolo che però educa sull'iter diagnosico differenziale molto complesso aiuta proprio vedi ad approfondire questo concetto del chirurgo chi c'era due anni fa a domanda diretta di uno della platea quando prescrivete risonanza da ATM Luca guarda sempre io mai la doppia visione che poi deriva un po' anche dal rettaggio culturale il chirurgone che vuole a tutti i costi trovare qualcosa per operare o il clinico che però in quel caso lì non esiste non prescrivere risonanza ok è una condizione rarissima e ovviamente non solo la effetti che una signora non c'è più e comunque si porta dietro anche tutti gli aspetti etici e proprio legali se vogliamo dirla di cui abbiamo discorso quindi pur essendo un caso singolo ha un valore altissimo infatti è stata accettata sulla principale rivista mondiale scusa avevi raccontato durante il corso che un articolo simile a questo era stato bocciato perché era stata fatta risonanza anziché no bocciato la vera storia di quest'articolo brava la vera storia di quest'articolo è che siccome tu devi rispettare dei protocolli è questa cioè all'inizio noi facciamo stendere il draft dell'articolo da una specializzanda e questa copiò pari pari il referto clinico di Luca Guarda che diceva sospetta l'artrosi si richiede RM e io cazzarola dico vabbè sospetta l'artrosi si richiede RM tutti i Soloni e Sandro Palla lì veramente è stato un grande perché è stato lui che alla fine dietro le quinte mi scrive a Daniele guarda che se vuoi uscirne scrivi così bocciavano non l'hanno bocciato però mi chiedevano modifiche e spiegazioni siamo andati avanti per due tre modifiche sul perché a fronte di un caso di sospetta artrosi avessimo chiesto la risonanza anziché l'attacca perché lo standard per i tessuti duri quindi per l'artrosi è l'attacca quindi per questo per dietro cioè di fronte a una paziente con una roba del genere c'hai uno ecco lì si testa di cazzo ho capito che ti dice secondo i protocolli dai nostri criteria dovevi usare l'attacca cioè allora tu gli devi dire primo che l'ospedale di Padova l'attacca non funzionava in quei giorni ok secondo che la la secondo noi prescrivere l'attacca per l'artrosi d'ATM è una cazzata madornale perché comunque sia quando trovi che è più o meno rimodellato il condilo il trattamento non ti cambia di niente e quindi siamo andati avanti a rimpallarcelo un po' perché Sandro Palamo ha mandato un'email privata e ha detto guarda Daniele non è che la vostra paziente aveva anche dolore e voi avete pensato che giuro perché comunque l'esperto sapeva che questo era un caso da pubblicare ma non poteva andare contro il parere di uno dei reviewer che era uno dei padri fondatori dei criteri diagnostici e si incazzava perché noi avevamo scritto fondamentalmente dove era l'equivoco che la paziente era stata inquadrata secondo i criteri diagnostici di ricerca e poi avevamo fatto la risonanza anziché l'attaccia a volte dovete incarti su queste robe qua ecco lì sono i grossi limiti della letteratura quindi come si passa esempio dalla evidenza clinica quindi della serie di pazienti con infiltrazioni seguiti per sei mesi alla evidenza scientifica cioè a dire la letteratura è solida su questo cerchiamo di mediarla dandovi delle informazioni concrete o più o meno più concrete a livello individuale ve la faccio breve cioè uno siamo partiti da una domanda anni fa esempio le infiltrazioni di acido neuronico sono efficaci quello studio che vi abbiamo fatto vedere prima più un altro successivo su popolazione molto ampliata sembravano dimostrare di sì sulla base di questi risultati preliminari come possiamo ottimizzare i benefici ridurre l'invasività Luca si è inventato la tecnica al singolo alvo più un protocollo riabilitativo di ginnastica a quel punto solo a quel punto abbiamo fatto una review sistematica della letteratura pubblicata su Canio nel 2010 cioè non è un punto di arrivo per pubblicare ma è noi abbiamo questi dati cosa fanno in giro per il mondo a che punto sono gli altri cosa hanno pubblicato sullo stesso argomento e da lì cerchi di chiarirti le idee ulteriormente per disegnare studi futuri prima idea è ma esiste uno standard un protocollo standard di riferimento tra i latini corrandomizzato con sei protocolli combinando lavaggio con infiltrazioni di aluronico o di cortisone singola o cinque sedute il ciclo di cinque sedute dava i migliori risultati con lo stesso protocollo la singola algo che è meno invasiva è ugualmente efficace si vai avanti assumendo il peso molecolare quindi vai sul molecolare e scopri che peso alto molecolare non va bene puoi usare il medio peso molecolare dell'olio aluronico il medio peso molecolare ti consente di fare meno infiltrazioni arrivi a dire che i soggetti con l'artrosi vera quindi oltre i 65 anni rispondono meglio di quelli che hanno dolori sì artrosici ma in età minore quindi probabilmente c'è una componente muscolare che va governata i fattori fisici e qui tutti i meccanicisti e tutti i chirurghi si disturbano da leggere questa frase sembrano influire poco sull'efficacia terapeutica cioè quanto dolore hai solo da un lato da due latti artrosi menisco tutto sembra spiegato dagli aspetti psichici cioè nonostante tutto il calderone di informazione il predittore principale di riuscita del trattamento nei pazienti con dolore ATM cronico sottoposto a infiltrazione è se erano o non erano depressi all'inizio del trattamento cazzo fantastico non saranno mai con te ma non è una questione di contentezza che sia mai succeduto è così cioè nella medicina del dolore l'aspetto psichico lo metti fuori a calci e ti rientra dalla porta di servizio altro aspetto arrivo Roberta trattamento ugualmente efficace questa è una novità rispetto ad altre articolazioni sia in presenza che in assenza di versamento e ora siamo andati avanti questo quindi nonostante gli interessi economici dell'azienda che ci ha lasciato pubblicare che conta la psiche nelle infiltrazioni di acido auronico cioè mai successo però noi avevamo messo i paletti all'inizio quindi le spinte commerciali l'evidenza clinica e il bias cognitivo di Luca Guarda che infiltrerebbe un paziente anche nel sonno siamo riusciti a voi lo sapete siamo riusciti a comunque arrivare a dire che l'evidenza clinico scientifica a livello del singolo individuo ci dice per una nicchia come sono le infiltrazioni che rispetto al 2007 adesso usiamo meno aghi e meno sedute non è indicata nei giovani perché probabilmente hanno dei sintomi simili artrosici ma nonostante condili rimodellati e quant'altro il problema è prevalentemente il risovarcarico muscolare troppo invasiva probabilmente nei soggetti che hanno un impairment psichico ridotto perché probabilmente a quel punto con un bite e un po' di ginnastica te la cavi né pazienti con un impairment elevato va integrata con cancer e un psichico e che comunque gli aspetti psichici sono importanti anche per questa chirurgia mini invasiva quindi comunque è un percorso poi resta da imparare a farle questo l'evidence non te lo dice è lì che l'esperienza clinica dell'operatore conta dimmi no io ho una domanda su il tempo nel senso per quanto tempo perché queste articoli vengono dipende vengono pubblicati dici no no nel senso devo fare dei controlli dipende tu considera ad esempio quelli lì dove hai visto prendi quel case quello dei pazienti seguiti per un anno lì hai prende quello che il tumore è che non è un amore diciamo però devi continuare a vedere se migliorano tu presenti dei dati no diciamo che tu devi presentare dei dati comunque in maniera onesta non c'è uno standard per esempio il nostro il trial clinico a 6 protocolli erano dati a 3 mesi ma oggettivamente come fai a seguire 60 pazienti con 6 protocolli randomizzati per per più tempo capito meno sono i pazienti e meno sono i i confronti che fai più devi seguirli per avere se non altro capito una pesantezza di dati una robustezza un pochino più difendibile no non c'è una regola generale ed è chiaro che questo ti porta via tanto tempo perché pensa all'articolo 27 pazienti o quelli che erano seguiti per un anno tu hai da reclutare 27 pazienti fare 5 sedute di infiltrazioni seguirli per un anno scrivere l'articolo mandarlo alla rivista passano se ti va bene 6 mesi da quando lo invia quando proprio è accettato e visibile su Medline quindi da quando sei partito i dati sono vecchi in più ci metti che la comunità clinica queste cose non le legge o se le legge le legge con un ritardo c'è un gap non lo so di 10 anni capito da quando le informazioni sono realmente partorite a quando vengono poi valutate e permeate nella comunità che quindi siamo andati avanti ecco questo ad esempio è come fai un trial clinico tu hai proprio quando disegni lo studio e mandi anche la pubblicazione della rivista da giustificare come hai diviso i pazienti perché li hai esclusi come hai fatto l'allocazione nei vari gruppi di ricerca nei vari gruppi di trattamento capito ci sono tutte queste cose che voi interessano il giusto però sappiate ci sono tecniche per approcciarsi a tutte queste tutti questi aspetti quindi quelli erano non quelli che abbiamo visto ora quello che abbiamo visto ora è come passare da un case report o una serie di casi a un'evidenza che sia sempre un pochino più corposa e clinicamente utile tornando invece al discorso della gerarchia dell'evidenza che poi troverete ora qui mi sono divertito perché io l'ho presentata così ma se andate su internet trovate 200.000 altre subclassificazioni cioè il concetto è che le review sistematiche sono al primo posto e le comunicazioni personali compresi i libri sono all'ultimo posto compresi i libri io se ora qualcuno mi dà una botta in testa nel parcheggio e stasera arrivo a casa un po' intontito mi metto lì a scrivere un libro con scritto viva l'omeopatia e vado da edizioni Martina a Bologna dicendo sono 20.000 euro me lo pubblichi domani mattina ora ho fatto l'omeopatia ma potrebbe essere i miei più bei casi clinici dei primi 40 anni di carriera cioè paghi quindi i libri ivi compreso il mio non valgono niente possono diventare dei riferimenti se voi conoscete che l'autore è persona seria e ce ne sono tantissimi l'unica casa editrice in questo momento che garantisce un minimo di controllo è Quintesenza perché essendo specializzata nell'odontoiatria sia a livello italiano che a livello mondiale conoscono un po' il dietro le quinte loro non fanno pagare cioè noi autori abbiamo diritti d'autore cioè noi siamo spesati e coperti dall'azienda quindi l'azienda fa un investimento su di noi per cui se ti presenti scrivi i miei primi quarant'anni poi fanno ottanta poi ok però questo è il concetto quindi compresi i libri ho visto che qualcuno ha strabuzzato gli occhi i libri sono opinioni personali in cui uno mettendo dei casi clinici belli meno belli contestabili cioè quindi ora non so che ora si è fatta se ci vogliono fuggire a mangiare facciamo ancora avanti un pochino tra quanto bisogna andare ancora un pochino ok 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 uno dei casi clinici uno degli esempi che vi voglio fare è facciamoci una domanda e qui scusatemi ma sono entrato nel mio seminato perché ho navigato meglio nella letteratura cosa sappiamo del bruxismo le varie risposte in base ai livelli di evidenza quindi esempi di studi facciamo spengere la luce sì meglio Daniele scusate grazie credo che grazie punto 11 le opinioni personali qui ti legano anche una cerochì se se fai il bite è chiaro che ora questa è una forzatura perché noi stiamo parlando di letteratura scientifica quindi internet non c'entra niente però voi trovate anche su riviste Madeline spuntandole come lettere all'editore opinioni personali che a volte sai con questa idea di dare spazio un po' anche alle critiche possono essere forvianti Alan Glaros che ho incontrato nel consenso del meeting sul bruxismo a San Francisco così chiacchierando mi ha detto Daniele ti mando una diapositiva su sta roba se devi fare sto corso lui nel 93 fece una ricerca con i suoi studenti e ritrovarono che quasi la metà dei dentisti sia generalisti che specialisti raccomandavano esempio per dirvi quanto le opinioni continuo e siano contrastanti con la letteratura procedure irreversibili per i TMD nel 2001 ha rifatto la stessa ricerca nell'era di internet 61% quindi per forza viene scontato farti questo esempio perché più di 3 siti su 5 che parlano di disori in tempo romandibolari raccomandano proprio che sono siti pubblicitari a scopo di fare procedure irreversibili gli ho detto Alan però la personalizzo credo che adesso sono passati altri 15 anni la percentuale dei siti nonostante evidenze nonostante tutto che pubblicizzano procedure irreversibili sia addirittura aumentata cioè quindi fate difficoltà voi mettetevi nei panni del povero paziente che cerca di navigare un po' di barcalenarsi di dire cioè io parto dal presupposto che un sito pubblicitario dovrebbe riconoscersi da un sito un attimo strutturato differentemente ma poi sai evidentemente non è tanto così quando viviamo in un'epoca ma cosa intendi per procedure irreversibili prima hai fatto vedere quello ortodonzia protesi teorie di riposizionamento odontoiatria estetica gniatologicamente guidata ste menate qua tu facebook cioè tu hai mai visto uno postare su facebook a parte Carlo Poggio o il sottoscritto hai mai visto postare qualcuno su facebook mi è arrivato un paziente con dentatura usurata e siccome stava benissimo l'ho fatto uscire dal mio studio hai mai visto uno postare sta roba qua perché la mia realtà clinica è questa sembra che invece tutti fissiamo la posizione dei condili perché c'è qualcosa di sbagliato perché sennò il paziente rischia di intuire che è solo estetica per rifargli 24 ceramiche e siccome il caso protesico è bello e oggettivamente molti sono bellissimi sono questi contest eccetera cosa ti metti complimenti grazie cioè cosa ti metti a battibeccare questo è quindi postare un caso su facebook o su internet non è pubblicare ok poi ci sono le opinioni degli esperti quindi al decimo posto che fondamentalmente sono io cerco sempre Fabio non so dove l'ho trovato sta roba qua un secondo me un'intervista quando era presidente IOP hanno lavorato hanno fatto campagne che è un secondo me un po' più valido ma si presume che però uno sappia chi è e chi non è l'esperto quindi sempre su internet nebbia è l'opinione degli esperti ogni tanto fa breccia anche in riviste di alto livello l'esempio è quando Rosario Marchese si ebbe un'intuizione fantastica e un giorno mi chiamò e mi disse ma Daniele ma guarda Rosario Marchese è il rottorino di Padova con cui Matteo sta facendo la tesi e mi chiamò e mi disse ma Daniele ma tu che ti occupi di bruxismo io vedo un sacco di questi picchi è bruxismo vero? si si secondo i canoni di Labini è bruxismo io li vedo alla fine dell'evento di apnea facciamo ragionare una due tre cinque polisonografie ogni tanto in pazienti selezionati accade sempre e solo sta roba qua dell'apnea quindi è un'ipotesi che in alcuni pazienti il bruxismo possa essere non dico un meccanismo protettivo per ristabilire la pervietà delle vie aere uno muove la mandibola in avanti ma comunque qualche forma di riflesso che avviene alla fine dell'episodio apnoico quindi questa è un secondo noi perché è un'ipotesi però insomma è un po' senza nulla togliere al discorso del caso clinico di prima è una cosa interessante capito? quindi su questi aspetti qua commentati bene le riviste di altissimo livello ti danno Rosario si era gasato l'aveva provato a mandare l'anset però ecco ti danno spazio ok? salendo al nono posto ci sono i consensi di esperti quindi non è più un secondo me di uno che è esperto nella materia ma è un secondo noi di esperti della materia quindi quando uno si aspetta che le classificazioni siano chissà quale frutto di validità scientifica le classificazioni di qualunque materia dalla psichiatria al bruxismo sono un secondo noi cioè un pannello di esperti selezionato in modi più risparati si riunisce e decide da domani chiamiamo gli elefanti elefanti che fanno parte del regno animale eccetera eccetera e nel caso dei risorni temporomandibolari ad esempio questo è stato l'iter c'è stato studi di validazione dei vecchi criteri rdc combinati con la vecchia classificazione dell'americana academy ci sono stati workshops aperti al pubblico allo IADR infatti lì è stato un po' un errore che poi per i bruxismo hanno deciso di non ripetere gli esperti nominati per cinque diverse linee di ricerca consiglieri esterni che hanno fatto anche da reviewer per il giornale in facial pain e sono nati il progetto di validazione dei vecchi rdc cioè vedere nel frattempo le manovre cliniche che erano state proposte che validitavano e sono nati da questa miscela combinata e dai nostri criteri a forti andi cioè la stessa cosa succede per il DSM in psichiatria per l'american academy of reumatology tutto quello che vi viene in mente le classificazioni sono un consenso di esperti ok che poi ha prodotto una classificazione che dopo oggettivamente essendo talmente vasti di argomenti di discutere da discutere a mio parere dei limiti grossi anche però non è questa la sede resta il fatto che come diceva Frank nel caso del bruxismo l'obiettivo di un consenso serio dovrebbe essere che tutti vadano a casa più o meno contenti e nessuno contentissimo o scontentissimo no? perché se più o meno mastichiamo tutti la materia allo stesso livello e quindi qualcosa devi concedere il bruxismo la classificazione è nata così anche qui senza starla fa lunga un consenso di esperti e c'è stata una tale evoluzione delle conoscenze anche grazie a questo discorso sulle apnee ad esempio al concetto che ormai è chiaro che il bruxismo non è una patologia di per sé così come c'è stata una chiara consapevolezza che questo grading dava troppa importanza ai criteri polisonografici come assoluto verbo e verità che c'è stato praticamente un nuovo consensus due settimane fa capito quindi dice ah beh consensus cosa fai e praticamente alla fine qui decidi come si chiama il bruxismo cioè sembra una cosa da ridere no? però questo è e di fronte a sta roba qua dici ok da domani il bruxismo del sonno si chiama così il bruxismo della legna cos'ha poi torni dentro ti riunisce agli altri capito questo è però essendo tutte più o meno persone esperte selezionate materia concedo e voglio concedo e voglio si raggiunge non è questa la sede per raccontarvi San Francisco ne parleremo al congresso anche cercherò di ritagliarmi uno spazio sabato mattina magari anche insieme a te per diciamo definire le nuove per presentare le nuove idee e concezioni ok? quindi qui ci fermiamo è ora del break Daniele? eh? ci aspettano pranzo e tanto siamo tutti insieme poi tra un'oretta continuiamo io posso andare avanti all'infinito poi